Perde contatto Penelope Caff, macchina che va via, Petitmond Jack che assume l'iniziativa avendo all'interno Persico OM, Pantic Slide, a largo Pachamama, lungo i birilli c'è il numero 1 di Perseo Jet, poi l'errore dietro del numero 9 di Princess Di Riolo. E in avanti il 5 di Petitmond Jack, a largo Persico ci prova parando l'avanzata di Patrick Alter che deve ripiegare, Petitmond Jack che ha tutte le intenzioni di correre di rimessa, Piru e Starlight, Pachamama, ancora Pantic Slide, Persico che passa, a largo deve vedersela con Patrick Alter che intensifica l'azione a largo, Patrick Alter a largo di Persico OM, poi il numero 5 di Petitmond Jack, Pachamama, ancora il numero 7 di Pantic Slide GSM, Patrick Alter è passato, si distende, c'è Persico, Petitmond Jack, Pantic Slide a largo, la scia che viene presa dal numero 8 di Pollo di Drago, Persico OM che segue il treno in posto da Patrick Alter che è abbastanza lesto, con Piru e Starlight che prova ad avanzare a largo parando l'avanzata di Pantic Slide GSM, quindi in avanti è Patrick Alter, poi c'è Pantic Slide alle prese con Piru e Starlight, quindi Patrick Alter e Pantic Slide, ancora Piru e Starlight, quindi Patrick Alter che deve vedersela con Pantic Slide che intensifica l'azione a largo, c'è Piru e Starlight, ancora gli altri con Patrick Alter e Pantic Slide, ancora Piru e Starlight e poi Pollo di Drago, in avanti c'è lotta fra Pantic Slide che sembra avere qualcosa in più rispetto a Patrick Alter, Pollo di Drago a largo, nel tratto conclusivo è il 7 di Pantic Slide che viene a vincere sul 4 di Patrick Alter, al terzo posto Pollo di Drago, 7-4-8 l'arrivo ufficioso di questa corsa, vittoria per Pantic Slide, GSM e Salvo Rosto che vanno a segno su un Patrick Alter che tutto sommato ha corso molto bene, al terzo posto nel finale c'è il numero 8 di Pollo di Drago che ha ragione e si difende da Penelope Caffo.